rabbia di isperazione con mai più trattura nelle galerie attaccate ma ricordiamoci Grazie a tutti La mia vita è la mia vita, come noi riusciamo a dire, come noi facciamo magliette, sono le cose che ti restano, sono la mia disperazione, non è sicuramente accaduto, non è sicuramente accaduto, non è sicuramente accaduto. Mi scusciamo! Mi scusciamo i partiti, in realtà e in incamato, in realtà di sovistenza, in realtà di 10 sentimenti, subire volantili, a più sociali stessili, per cercare di liberarci, che avete una spesa cadere. Siamo noi! Siamo noi, dei cadavari, dei cadavari, di come paura è di sotto, come sotto questo non so se lo volessi sento, io volto la cacchina e mi sento, le cannabidi sperazione, solo fino a noi poti ribellione, le cannabidi sperazione, eh, fino a noi poti ribellione. Ritaglione!